Il professore Paolo Lagrega della Università di Catania, urbanistica naturalmente, è qui oggi all'incontro ma voi avete affiancato l'ufficio tecnico del Comune di Ragusa. Mi dica, cosa vedete in questo nuovo piano regolatore e cosa ha Ragusa di particolare? Ragusa è una città straordinaria, il piano regolatore che l'ufficio del Comune è riuscito a costruire con un affiancamento tecnico-scientifico da parte del Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura dell'Università di Catania si profila come uno strumento nuovo per la città perché è uno strumento che mette ordine a un tessuto particolarmente complesso attraverso strumenti di equità, di perequazione urbanistica, di ricuscitura dei vuoti lasciati dagli spazi indiscriminatamente occupati per le aree a standard, si pone il problema di ridare una grande qualità urbana e territoriale e di lavorare su una nuova accessibilità prevalentemente legandola ai nodi di trasporto che la metroferrovia dovrà in qualche modo in un migliato futuro consentire per la città. Un'accessibilità alternativa, una fruizione molto più attenta alle giovani, generazioni e agli anziani, cosa delle quali le città contemporanee hanno estremamente bisogno. Quindi voi avete studiato questo problema, per esempio uno dei grandi problemi di questa città è che sono tre, quattro città, è difficile mettere insieme, poi non funzionano onestamente i servizi pubblici, come si può risolvere questo problema? Non credo che la metropolitana di superficie possa essere sufficiente. Evidentemente non è con un unico strumento che possono risolversi problemi così complessi, quello che però bisogna capire è che le città non possono, in Ragusa in particolare, proseguire in una crescita indiscriminata di unico servizio possibile che è quello della modalità dell'auto privata. I valori sono estremamente elevati, purtroppo la carenza di spazi pubblici, soprattutto nella città novecentesca, nella città contemporanea per Ragusa è elevatissima, è necessario ritrovare socialità, ritrovare qualità dello spazio perché alla fine non dobbiamo mai dimenticarci che siamo noi abitanti, noi cittadini che dobbiamo fruire degli spazi, non le macchine che sono lo strumento attraverso il quale ci possiamo muovere. L'ultima domanda, a livello universitario, come le vedete le scale mobili, gli ascensori, la modalità alternativa? Ormai le grandi città, diciamo, turistiche da Spoleto hanno tutti questi nuovi sistemi. Voi all'università che gli date? Come voto? 18 o 30? Guardi, le dico subito questo, quando si propongono soluzioni di questo genere, uno strumento urbanistico, in generale c'è una risatina, dice sì, ma chissà quando si faranno. Le posso, non parlo delle grandi città, delle grandi metropoli, Troina, un comune dell'Enese che per ben 15 anni abbiamo affiancato nella costruzione dello strumento urbanistico, ebbene, prima ancora che il piano regolatore che prevedeva per raggiungere la Rocca e la parte alta di Via Conte Ruggero, un sistema di scale mobili e di modalità alternativa all'auto, lo sta realizzando ancora prima che il piano fosse approvato. Quindi poi, dico, le cose succedono molto più di quanto non si possa credere. Però voi siete favorevoli, diciamo, non distrugge nulla, diciamo. Vanno collocati in maniera adeguata, naturalmente, con molta attenzione alle qualità e all'ambiente, ma oggi è possibile coniugare.